sono alberto angela benvenuti in questo video oggi vi voglio spiegare che ogni anno è disponibile su splatoon uno splat fest riguardante halloween questo splat fest si dica asby mi ha fottuto il canale ciao a tutti ragazzi sono gabry yoshi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su splatoon 2 per lo speciale di halloween e siamo insieme ad asby e zamblu vimo siccome dico sempre banane questa volta dirò caramelle cavolo ma perché no che schifo no quindi adesso faremo 30 partite in diretta e quindi cominciamo buon halloween a tutti andiamo Oddio è bellissimo ma è bellissimo ma è bellissimo e questo No dai dimmi che non si vede così non ce la faccio così Oddio E' bellissima la vita dai è bellissima Ricordiamoci su questa è una mischia mollosca se fosse una partita per dovevamo tragiardare Ma di brutto anche Qualcuno mi può aiutare contro Goku E' dubito perché io sto andando a fare full team Ho fatto full team Ma qualcuno dovrebbe Buoh buoh grande buoh grande Eh vabbè che è male Ma qualcuno dovrebbe spiegare a quegli intring che qui non siamo in dragon ball z No siamo in dragon ball u Siamo in dragon ball u Siamo in dragon ball u No non è u Questa non è da qui u bro Ah dragon ball switch Eccosa Qui di xenoverse Andiamo brothers andiamo a Partita per finita Ah attacco Ma cosa c'ha Reis 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 non ha un'arma Si Reis però io lo attacco dai Cioè che cazzo Luggins platoon Si Ma non c'era il server di nintendo online Ecco Wow Sono simpatico Quanto funzionano bene il server No aspetta Non ci sono Vedete ragazzi scopriremo se abbiamo vinto Eh si Con Conte le vinciamo tutte E' persa 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 Ma io mi stupro le banane Prossima partita Io sono uno scherzetto Io sono uno scherzetto E' una natura Moltiamo a questi scherzetto quanto è bello provare il diabete di persona Ma sei un Ryan ingatti Sei un peer Vai ingatti Oh Ho ucciso qualcuno Chi è che c'ha la sfera Genkidama Dai che abbiamo fatto così in full team dai Avete il masenco avete porca miseria Altro che sfera Genkidama Chi è che è morto a fianco a me che non ho nemmeno capito Ma io per dire ma sono abbastanza scarsi sti qua Mi hanno ucciso per la prima volta Bravi Bravissimi Troppo fatti Possiamo farcela Possiamo farcela C'era poi farcela Diceva Trump Tanto tempo fa Ok a posto Dai è vinto E' sicuro che è riuscito a usare la sfera Genkidama all'ultimo secondo Sicurissimo come lander E' a posto Bravi Prima partita vinta ragazzi E sapete cosa vi dico Sono figa No io di più Oh That's so cool Ti odio Mi devi passare il mio Ti odio Io non fate due Come solo due Troppo forte Prossima partita Cioè ma il fatto è che Che lampeggio ha l'inchiostro è bellissimo Cioè è un effetto stupendo come tutte Sì Navli hai rotto le navi No non ho nessuno usare le altre armi su Splatoon Non solo le repolper riesco Ti giuro Ti scarichi di merda Non sai usare il pennello Non lo sai usare quella E' la mia arma main Nella prossima partita la scelgo E scelgo Io non so usare nient'altro che le repolper E' il mio problema è quello Mi stanno facendo Incappetta Attento Caaah Ahah Gabri Vai Dobbiamo usare una tattica infallibile Pushamolo Addosso E io muoio Uno dei due lo riesce a splattare sicuro E' ovvio che ce l'abbiamo fatta Era neppure in pericolo Guarda That's so cool Bello questo arancione da noi eh Bellissimo E a Crash Bandicoot che è venuto a salutare E io rimango sempre la più bella No solo io No c'ha un certo fascino la mia inkling eh E sei tu Comunque comunque non vorrei dire Ma il fatto che ci sia scritto Alsvi Youtube 3 Vi fa capire quanti giorni ho già Non consumato del pass online Ciao Ah già Prossima partita Oh Oddio bellissimo Abbiamo conto Mango e I'm small Con un inglese Ragazzi sono Io sono main con il Calamaravaggio E voi bel giochi che arma main avetti Lo sai che arma main ho io Si Si lo so Lo so Mi intendevo anche Zamblue Ragazzi ma i nemici dove sono scusate Domanda proprio cruciale Oddio ma ci sono Ma ci sono le retaglie oddio E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo La modalità storia Ho notato Ragazzi ho splattato fortnite Finalmente Ho splattato fortnite Oddio ma che cazzo Siamo ancora un team organizzato Ho chiamato Prima c'era fortnite Leggenda vuole Ragazzi sono degli hacker secondo me sti qua Siamo attenti Secondo me Siamo attenti perché sono cinque persone non sono quattro Guarda lo Zamblue 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 sei tutti noi? Vabbè Zamblue l'abbiamo vinta per colpa tua Il volodì e l'abbiamo persa E' un fafà lo stesso Intanto ha fatto qualcosa Ho cercato di affrontare quindi Dai almeno Almeno 30 Beh non l'abbiamo fatto schifo come quelli di prima Sì questo è stato un team molto bello Questo è stato un full 15 Luca Luca ha fatto 5 kill E loro invece hanno fatto 5 kill a testa guarda No invece L'unico che hanno fatto 5 kill è stato Quello non era da hub Erano tutti scriptati per fare 5 kill tranne quello che era quello vero Comunque sai che i prossimi chiamano nei VOOT Perché tipo Vedi che VOOT Vedi che VOOT non è un team VOOT è semplicemente un'abbreviazione di Facciamo tipo party con gli squid Quindi se trovi tipo una partita di tutti i VOOT Non si combatte Cioè sì Sei venuto nei VOOT Allora Sicuramente Talia la sta cosa prese Era curiosità mia Imprazzato No più che altro perché oggi tipo ho splattato mille volte tipo dei VOOT Ci sono rimasti malissimo A un certo punto mi hanno cominciato a squid bugare dopo quelli splattati miriadi di volte Alvi Ho illuminato la via un player nemico Che morte stupida che ho fatto Sei caduto? Cioè questo è veramente il gioco Si, ma è caduto in un modo proprio con classe Wow! That's cool Pascal! That's cool! Io ho 10 cst con il nuovo Mecchiaonotecmi a live Sì io l'ho visto No! Scriviamo tutto Mi accenso te Diveroado Mi è vero Mi ho schivati Vole poi continuare Dalla nostra vita Vole po' da gggd moon Andiamo fin dalla luna Ok ti aspettatevolo dai Salite sopra e sponso degli altri Dai 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 Dove sei? Sopra Sto cercando di sopravvivere in questo momento Non devi sopravvivere, devi ucciderli e colorare Chiunque ti è fatto decidere i pepsi li vorrò per sempre bene Io ci sofferti Ho ucciso tipo tutto il team alla fine Ok E questo potrebbe essere a nostro favore Se coloravamo ancora un pochino E infatti Era a nostro favore Cioè avevamo fatto un rimontone epico dai Un bel rimontone finale Sono livello 7 come skiller Solo che lui è livello 107 Io sono livello Ma perché c'hanno la stellina alcuni? Perché quando arrivi a livello 100 Si resetta ma con la stellina Così ho capito io Ok direi che Direi che il video si può concludere qui Grazie per aver guardato questo video Vi invito a lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina E iscrivervi al canale di Asby Faccio video su Minecraft Iscrivetevi Lo sai che te la taglio sta parte Ti prego ci stava troppo bene No Quindi da Gabri Asby Alla prossima Ciao Ciao Aspetta Gabri Prima che finisci il video Penny Ciao 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 Autore dei sorrisi